Buongiorno a tutti da Andrea Cartotto. Nuova puntata del ciclo dei miei videocorsi dedicati alle lavagne digitali. Come riprodurre dunque anche a casa in uno scenario di didattica a distanza, la DAD, il contesto della lavagna interattiva multimediale, dunque la nostra LIM. Nelle precedenti puntate, videocorsi disponibili qui sul mio canale YouTube Trainer Andrea, ho parlato di risorse web, web applications in gergo, Google Jamboard e Liveboard. Quest'oggi invece vi parlo di un vero e proprio software, dunque un programma che ha numerose caratteristiche positive che lo fanno essere una risorsa preziosa per la nostra didattica, Openboard. Openboard è un vero e proprio software autore per la LIM, dunque installabile ed utilizzabile anche a scuola, laddove sia disponibile la LIM, e usabile tranquillamente a casa da parte del docente, soprattutto in questo momento perché oltre che essere semplice ed immediato, mi consente di registrare la mia lezione così come la sto tracciando. È software libero, Openboard, Open Source, rispondente dunque anche ai criteri di legge indicati nel codice dell'amministrazione digitale. Come me lo procuro? Da un qualsiasi browser accedo all'indirizzo che osserviamo qui nella barra degli indirizzi, Openboard.ch, dove il dominio sta per Confederazione Helvetica? Posso cliccare su Italiano per avere il sito in lingua italiana e cliccare su Ottieni Openboard liberamente, potendo così scoprire che il software, oltre che essere libero, gratuito e dunque avere un valore educativo e culturale, è possibile scaricarlo per macOS, sistema operativo di Apple, sistema operativo Windows e Ubuntu. Sempre in gergo, così come sapete mi piace rendere i termini assolutamente accessibili a tutti, questo è un programma multipiattaforma. Segnalato anche, e lo dico agli utenti frequentatori di Facebook, dall'amico ottimo tecnico Albano Battistella sulla sua pagina Facebook Zorin OS Education Italia, in cui si parla di un'altra risorsa libera e di tante risorse libere per tutti i colleghi e per tutti i docenti. Veniamo al nostro utilizzo di Openboard. Lo andiamo ad installare, in questo caso io ho un laptop, quindi un portatile che utilizzo per la didattica, che ha sistema operativo Windows, ma può e anzi deve ospitare una pluralità di software liberi. Ecco Openboard. Vado ad effettuare un doppio clic e ho il mio programma davanti. Attenti, qui ha tenuto in memoria il programma, un mio ultimo utilizzo, in cui per replicare il contesto scolastico quanto più possibile avevo utilizzato lo sfondo classico in Ardesia nero quadrettato. Gli sfondi si cambiano con un clic sul bottone sfondi in alto. Semplicissimo. Foglio bianco, quadrettato bianco, rigatura bianca e così via. Andiamo ad impostare il quadrettato che già avevamo. Chiudo con X. Barra degli strumenti a sinistra, che con un clic si espande o comprime, con le miniature delle pagine. Con un clic su Pagine, ecco che genero tutte le pagine che mi sono necessarie per la lezione. Un clic a destra sulla freccina riguardante la barra degli strumenti e vediamo che è possibile assolutamente prelevare, rendere quindi la lezione interattiva e multimediale, immagini, filmati, file audio e molto altro, oltre alle forme geometriche naturalmente. Facciamo un esempio. Eccole qua, pronte a nostra disposizione. Posso creare con estrema facilità una mappa concettuale direttamente alla lavagna. Vado ad applicare però uno sfondo chiaro. Clic, come vediamo, una quadrettatura, perché no? Con lo sfondo chiaro vediamo che in effetti abbiamo una maggiore leggibilità ora per potervi mostrare l'atto pratico. Io ho naturalmente selezionato, come vedete ora, il pulsante dello stilo a nota documento. In alto scelgo il colore del mio stilo, lo spessore del tratto del mio stilo e poi a questo punto se io voglio scrivere, in questo caso utilizzo il mouse, ricordo da utente mancino, in questo caso con mouse alla destra e lo dico quindi in modo da farmi già perdonare per la grafia terribile, poveri alunni. Allora, poveri alunni nella misura in cui si trovino ad osservare magari con i docenti un videocorso dove in realtà non scrivete così, bambini e ragazzi. Allora, ho il mio testo, ribadisco per chi avesse perso le precedenti puntate dei miei videocorsi che consiglio la tavoletta grafica in questo ambito. La problematica non si pone utilizzando open board su un computer con schermo touch o su un dispositivo convertibile che sia ad esempio munito di stilo o possa ospitare l'utilizzo di uno stilo capacitivo pennino che ci consente di avere la naturalezza del gesto. Guardate com'è facile da utilizzare open board. Clicco la mia freccia, la imposto, tramite gli angoli e le maniglie di ridimensionamento la vado a posizionare. Se voglio un testo, dattilo scritto, clicco sul pulsante A, clicco in un punto a vuoto della lavagna, veramente per tutti i docenti qualsiasi grado di competenza digitale e vado a scrivere. Che cos'è open board? È un software autore, si dice in gergo, impariamo un altro termine, per l'utilizzo della LIM. A questo punto come possiamo osservare io seleziono il mio testo e ho una piccola barra degli strumenti estremamente funzionale che replica, voilà, i pulsanti tipici della videoscrittura, ad esempio questo è il pulsante dell'allineamento che mi consentono movimenti estremamente precisi e mirati. Alla stessa maniera, il più e il meno sono relativi all'ingrandimento del mio testo. Un clic come si usa dire a vuoto per confermare la mia azione. Ed ecco qui. Ora siamo nel contesto lavagna, d'accordo? Come posso registrare questi miei gesti e questi miei elementi? Vediamo il menu. Clic sul pulsante open board posizionato in alto a destra. A questo punto ho il pulsante podcast. Il pulsante podcast, chi di voi ha dimestichezza con la tecnologia digitale lo conoscerà anche come utente privato, come cittadino, però il podcast normalmente è un contenuto audio che io posso ascoltare relativo ad una trasmissione e quant'altro. Nel nostro caso il pulsante podcast attiva un piccolo pannello degli strumenti, quello su cui sto ora posizionando il mio puntatore, non appena io vado a selezionare dapprima questa piccola freccina a destra. Vado a cliccare su pieno. Verifico che sia selezionato il microfono che intendo utilizzare. In questo caso il mio portatile ha sia il microfono interno, quello presente accanto alla webcam nei nostri portatili, sia il microfono cuffia. Entrambe le sorgenti audio andrebbero bene per registrare il commento del docente mentre scrive sulla lim e chiaramente vengono registrati sia l'audio che tutto ciò che viene scritto sulla lim. Lascio dunque nel mio caso personale le impostazioni come sono, non faccio altro che cliccare sul bottone rosso. Da registrazione il bottone passa e diventa un quadrato per lo stop quando sarà necessario, io vado ad arricchire. Clicco sulla casetta, ancora magari la mia lezione di un elemento, per cui andiamo un po' a vedere nelle immagini cosa possiamo avere a disposizione. Andiamo ancora a prendere per esempio le forme. Allora le forme, un software autore per l'utilizzo della lim. Prendiamo un rettangolo, ma sì, con un semplice trascinamento. Lo posizioniamo, lo andiamo a allargare al bisogno. Tutto ciò che sto facendo è registrato in questo momento da OpenBoard. D'accordo? Io in realtà nella forma poi posso tranquillamente scrivere ad esempio cliccando sulla A, cliccando all'interno della casella di testo e vado a trascrivere. È possibile registrare audio e la lavagna. Diciamolo in maniera corretta. È possibile registrare l'audio e la lavagna. Perfetto. Posso naturalmente con le maniglie di ridimensionamento intervenire. Posso posizionare. Vedete, è facile quanto un trascinamento. Se ci fosse qualche elemento non perfetto, io riclicco su, voilà, vedete? Ho cliccato sull'angolo, sulla maniglia di ridimensionamento e ho perfezionato il mio testo. A questo punto, quando termino, faccio un clic sul quadrato che vale come stop. La registrazione viene salvata sul desktop in formato WMV. È un formato Windows, quindi un formato Windows Media. Andiamo un attimino a vedere dove è situato. Per cui ho terminato il mio lavoro. D'accordo? Per guardare il desktop potrei addirittura cliccare su mostra desktop rimanendo in open board. Pensate, infatti, guardate, facciamolo un attimo. Click. Questo è un programma pensato per la LIM. E dunque, essendo un programma pensato per la LIM, è un programma che ci permette di lavorare sullo schermo. Questo potrebbe essere il desktop del computer dove io ho fisicamente la LIM installata. Ed ecco qui openboardcast.wmv. 4 megabyte e 8. Mi basta cliccare sul pulsante a forma di lavagna per tornare allo scenario di open board. A questo punto clicco sul mio open board, pulsante in alto a destra, e poi su esci per abbandonare completamente l'applicazione open board, ritrovandola comoda per il prossimo utilizzo. Il mio video può essere caricato regolarmente sulle piattaforme in grado di ospitarlo. Penso al canale YouTube del docente, penso a Google Drive e da lì condiviso sotto forma di link anche sul registro elettronico. Spero di esservi stato utile anche in questo caso. Vi auguro una buona giornata e buon lavoro. Una segnalazione, ricordiamoci che la didattica digitale non è necessariamente a distanza. La didattica digitale è di tutti e per tutti, però bisogna mettersi in gioco, formarsi e acquisire le corrette competenze digitali. Grazie!